Ciao a tutti! Uno dei problemi più grossi che io vedo con i dilettanti, ma soprattutto le donne, è il famoso sway. Cos'è lo sway? Quando noi facciamo le swing e il corpo, soprattutto la parte in basso, i fianchi, il bacino, vanno in traslazione. Quando vado in traslazione così, invece di rotarmi, quando vado in traslazione così, cosa succede? Mi abbassa troppo la spalla sinistra, non c'è una rotazione completa, ho il corpo completamente fuori degli angoli giusti e qui devo recuperare. Allora cosa perdo qui? Perdo impatto, velocità e distanza, perché da questo punto devo spingere il contrario facendo dall'altra parte. Adesso ho sway verso qua, mi abbassa la spalla destra. Quando mi abbassa la spalla destra, cosa faccio? Zappo per terra. Quando zappo per terra, l'impatto non c'è. Come conseguenza trattengo. Quando trattengo, cosa succede? Prende la pala in testa. Perdi distanza, velocità e direzione. Ma oggi c'è un fantastico esercizio per voi che è semplice e funziona. Guarda cosa faccio. Ho messo due bastoni qui per terra, puoi usare l'aste o i feri come ho usato io. Io mi metto qui in mezzo, questo bastone lo appoggio sulle spalle, così è un punto di refermento come giro il corpo. Questo bastone sta vicino l'anca destra e questo qui vicino l'anca sinistra. Lo appoggio questo qui. Allora problema? Traslazione. Vedi che vado a toccare questo qua? Quando vado avanti mi traslo e vado a toccare questo qua. Facendo questo movimento fatto bene, quando giro, il mio obiettivo è stare dentro questa lastra. Come faccio? Semplicemente spingendo un po' il ginocchio destra contro l'articolazione dell'anca destra, spingo il gluteo destra indietro, quasi come il mio gluteo sta andando verso sinistra, indietro. Così rimango perfettamente in asse, non raddrizzare troppo il ginocchio, mantengo un po' di angolo qua, ho allontonato un pochettino questo e se vedi qui, i miei spalle hanno fatto una rotazione di circa 90 gradi, i fianchi 45, dove prima c'era poco o niente, se vedi benissimo qui. Allora spingendo il gluteo indietro, ho allontonato, ho girato, sono in una posizione potente. Non solo quello, mi sento che il mio busto sta sull'interno della gamba destra. In questa situazione sono perfetto per iniziare il downswing. Allora da qui cosa devo fare? Devo spingere contro la gamba sinistra, devo sentire che riprende la posizione, come noi golfisti diciamo lo squat, questa posizione qui, portando tutto neutro. Adesso faccio il contrario, spingo il ginocchio sinistra contro l'articolazione dell'anca sinistra, spingendo il gluteo indietro, sentendo questa rotazione e poi lascio andare tutto. Mi trovo in questo finish perfettamente alto, come Rory McIlroy, in perfetto equilibrio. Ok, ripassiamo velocemente, mi metto in posizione, rotazione, gluteo indietro, allontano questo bastone, petto sull'interno della gamba, spingo in posizione del squat, avvicinando questo qua. Da qui spingo, ginocchio contro l'articolazione, giro, finish the Rory McIlroy. Facciamo col bastone, mi muovo tutti insieme, devo sentire questo movimento che mi viene dal centro quasi, la braccia segue insieme, il bastone insieme, comincio a ruotare, allontanarmi, carico in su, ecco, mi trovo potente, mi sento veramente in una posizione che non riesco a ottenere per tanto tempo, perché è carico. Da qui sposto contro la gamba sinistra, giù con la braccia, giù, così rimango con un buon spazio e dall'interno, giù con la braccia. Spingo contro la palla, gluteo indietro, ginocchio se raddrizza, lascio andare. Finish di Rory McIlroy. Ok ragazzi, praticate questo, si può fare a casa, anche senza essere in campo pratica. Fate tutti i giorni e vedrai fra tre settimane avete un swing veramente funzionale, potente, la palla va lungo e dritto. Be your best.